Furinorma è un'iniziativa che ho promosso assieme a un gruppo molto rispetto di persone sei anni fa. Consiste nel far vedere in sale indipendenti, non in sale pubblica, quello che noi riteniamo essere il miglior cinema di autori italiani prodotto negli anni recenti. Abbiamo proiettato finora qualcosa come 150 lungometraggi, 50 mediometraggi e altri 50 cortometraggi. All'Orcinus Festival generosamente ci offrono un omaggio e presentiamo uno dei film che fanno parte di Furinorma, Piccolo Corpo di Laura Samani, un'opera prima, che ritengo ci rappresenti molto bene. D'altra parte anche l'altro anno abbiamo fatto qui una rassegna di film a Furinorma che ha avuto notevole successo. Io credo che il futuro del cinema italiano sia fiorente, al contrario di quanto si dice in giro. Perché è vero, un cinema italiano sta morendo ma ne sta sorgendo un altro che ci fa sperare nel futuro del nostro cinema. Grazie a tutti.